Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video della serie di gugugu quello che è E oggi doveva uscire un video diverso dal solito, delle fazioni raga, delle fazioni E però non è uscito perché ho registrato con un programma molto scra... no no Grande! E' la para, madonna raga, ma che portiere c'avevamo? Meglio de buffon, meglio de buffon, ma chi sia... no 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 Che problemi c'avete mentali? Guarda lì! Siete scemi? No! Spacchi la porta, no! No 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 no, non puoi segnare, non puoi segnare, non puoi segnare, non puoi... Ma dove cacchio vai? Ma dove... ma che... ma dove cacchio vai veramente? No Lui, 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 lui mi sembra molto serio oggi Ha sbattuto un po' le volte nei pali, eh Però... vai! No! Sì! La pari! Riga! Riga suprema! Eh, però cosa faccio io adesso? Non posso fare niente, no! Però riga! Dove possiamo resistere? No! Ho faiato! Allora... Non so se questo gioco è più stupido o veramente demente Non saprei definirlo bene perché... Segna uno! Sono tutti contenti! Bene! Se abbiamo perso, facciamo schifo questo gioco Dunque raga, mi dispiace veramente tanto di non aver portato il video che volevo perché era veramente epico Anche per il nostro amico iCube sarà dispiaciuto ma io veramente raga non ci posso fare niente Non è colpa mia, non volevo farvi uscire un video schifoso del... di Minecraft dove facevo schifo... dove laggava tutto perché laggava veramente... Guarda! Guarda! Oh, la... Oh, my God me... Oh, tu sei... Guarda che sto facendo la... Mmm... Credo che sia morto... Questo si è ficcato la testa nel... Nel... Cosa di... Moving... Eh! Te rimani qua, te rimani qua, te rimani qua, te rimani qua, stavolta... Eh, no! Ma sei un criminale! No, 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 te rimani qua, te rimani qua, te rimani qua, te rimani qua... Ti viene pollonato tantissimo, muori... Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Quindi io Avevo già registrato quel video Era fantasticoso Dopo sono andata a rivederlo E laggava tutto E non ci posso fare niente raga Mi spiace tantissimo Non volevo farvi uscire un video schifoso Quindi è la vita Questa sarà l'ultima partita della vita No 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 Vai Devo essere fiero di te vai Vai No Schifo No di là Ma che miseria No raga Già questi ci segnano No 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 Vai No Devi Ma sei scemo Devi prendere la palla Non so se capisci bene come si gioca a calcio La pariamo noi Vai Si è messo in porta quello Quello resta lì ormai raga Quello fa parte della vita ormai E l'ho parato Ma che genio che sono Adesso 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 Calcio bene 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 Se la buttiamo via Ok 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 Adesso Comincio a capire un po' come si Ma cosa sta facendo Quello là Guardate quell'altro Sono tutti Sono tutti mongospastici 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 Siete Ma veramente siete spastici Proprio Guardateli No 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 Vai Salva la porta No Fa di schifo Via Via L'altro Via Punta via la palla Si Non abbiamo perso Abbiamo pareggiato Comunque adesso Pugniamo lui Perché poteva fare gol Invece non l'ha fatto Quindi lo pugniamo tantissimo Lo pugniamo proprio tanto 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 Perché hai fatto schifo Questa partita Non l'hai fatto Oh hai fatto il capriora Bravo ho imparato a fare il capriora Comunque ragazzi Vi dispiace per non aver uscito Far 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 Fare uscito quel video Mi dispiace di non aver fatto Usci Fatto uscire quel video Ma Non ci posso fare niente O vi facevo uscire un video scrauso Oppure questo Mi dispiace Per questo video possiamo concorre qua Commentate Iscrivetevi al canale Per questo video possiamo arrivare a 4 mi piace Ce la possiamo fare E da Matteo è tutto E noi ci vediamo in un prossimissimo video Ciao